Sale ancora il debito dell'Eurozona che raggiunge quota 90% del prodotto interno a lodo nel secondo trimestre dall'88,2% nei tre mesi precedenti. Sono i dati diffusi da Eurostat. Il rapporto debito per prodotto interno a lodo continua a salire anche dall'Unione Europea nel suo complesso, dove è passato dall'83,5% del primo trimestre al 84,9% nel secondo. Le aziende si rendono conto sempre di più che la crisi dell'euro non è ancora finita. L'incertezza è alta. Il risultato è che gli investimenti sono rinviati e colpisce ormai quasi tutta l'intera economia tedesca. Marcato anche l'incremento del rapporto debito-prodotto interno all'orto rispetto al secondo trimestre del 2011, quando nell'Eurozona era all'87,1% e nell'Unione Europea, a 27 paesi, all'81,4%. La quota del PIL dei prestiti intergovernativa ai paesi di difficoltà è stata pari all'1,6% nel prodotto interno all'orto.